Il Colosseo è il monumento più amato dagli italiani, battuto largamente il Duomo di Milano, solo sesto tra le preferenze. Lo ha stabilito il sondaggio commissionato dalla Fondazione FMR all'Eurisco. Tra le top tem delle bellezze d'Italia, con l'Anfiteatro Flavio, Roma fa il pienone, piazzando ben cinque monumenti tra i primi dieci. Roma fa la parte del leone anche negli incassi dei biglietti, 41 milioni di euro su un totale nazionale di 97. È tutto, la linea torna a te Sabrina.